Come curare la cellulite? Beh, io ho scritto un libro 2008 sulla cellulite e non c'è una singola bacchetta magica per la cellulite la cellulite è un percorso degenerativo secondo me quasi su tutte le donne veramente su tutte le donne è legato a microcircolo, legato a uno stile di vita errato e anche se la curi, magari fai un ciclo di trattamenti in un centro estetico, però comunque devi continuare allora come possiamo curare la cellulite? Innanzitutto non dobbiamo mettere indumenti che ci bloccano il ritorno lenfatico così non indumenti troppo stretti sempre non dobbiamo mettere tacchi troppo alti ok, perché anche in quello peggiore il ritorno lenfatico è venoso e l'altra cosa è bere tanta acqua proprio acqua, olio, minerale con poco sodio perché il sodio trattiene i liquidi stai lontano dai insaccati perché insaccati oltre nitriti e nitrati di sodio che già sono anche cancerogene ma che ti fanno trattenere un sacco di liquidi e l'altra cosa ci sono dei due esercizi fantastici uno è il trampolino e l'altro è la pedane vibrante questi sono due prodotti che sono eccellenti per aiutarvi a drenare i liquidi in eccesso altro prodotto per aiutare con i liquidi in eccesso è Easy Drain è un drenante mio che aiuta a drenare tantissimo lo devi fare magari una confezione ogni due mesi cioè non lo farei sempre Easy Drain non serve sempre Easy Drain però abbiamo anche un altro drenante molto forte si chiama Leg Renew Leg Renew è per chi ha problemi venose anche voi giovani che magari avete insufficienza capillare o un problema venoso causa anche congenita quello è una bomba perché ti potenzia il ritorno venoso che è fondamentale per aiutare con i anestetismi dalle cellulite l'altra cosa che ti possono aiutare sono le creme topiche perché le creme agisce da fuori perché veramente quando stai parlando delle cellulite stai parlando di devi pensare in una battaglia di elementi per andare a migliorarlo però pedane vibrante trampolino eccellente ovviamente anche nel campo estetico nei centri estetici ci sono LPG mesoterapia non mi fa impazzire perché è invasivo non mi piace tantissimo funziona e funziona però è doloroso non mi piacciono gli aghi però insomma poi ci sono scusami c'è Be Good e c'è Pro Skins che sono i miei tessuti intelligenti che possono drenare di comprimere e trattare le zone dove si formano gli anestetismi dalle cellulite insomma attacca la cellulite da più fronti vedrà che è possibile migliorarlo tantissimo e ricordate sempre che tutto è possibile però parte da costanza parte da un gesto e parte da una decisione di fare qualcosa per voi Spanky vuoi venire qua a salutare tutti? vieni qua vieni qua aspetta è arrivato Spank vieni vieni app 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 ecco e c'è anche lui è spankoso che non ha la cellulite è soltanto puzzolente e ha tanti peli allora vi aspetto prossima settimana sempre qui su mio canale youtube vi voglio bene ragazzi e mi raccomando combattete per un fisico migliore ma non per rendervi più belli ma per essere più leggeri più soridenti ciao 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 Grazie a tutti.